Nel Deiotti è stata senza dubbio una delle donne in politica più rappresentative della nostra storia repubblicana. Non a caso è stata la prima donna a ricoprire un importante incarico istituzionale come la Presidenza della Camera. Debo dire per chi ha frequentato i corridoi e le aule parlamentari, la sua immagine, il suo stile viene ancora oggi ricordato. Nel Deiotti è una donna che alla politica ha dato tantissimo, ma ha dato soprattutto tantissimo alla storia italiana perché è stata prima giovane resistente, successivamente militante esponente del Partito Comunista. Fu tra l'altro la compagna di Palmiro Togliatti che è stato l'esponente più importante del Partito Comunista prima durante il fascismo e successivamente nella fase, nella nascita e nei primi decenni della vita repubblicana. Ebbene Nel Deiotti ha fatto questo percorso segnando in qualche modo anche l'emancipazione della donna nella società italiana, consentendo anche al Partito Comunista di uscire dalle strettoie politiche nel quale era stato confinato come partito, grande portatore di voti, ma scarsamente considerato, diciamo così, per la vita democratica, tant'è vero che era confinato eternamente all'opposizione. L'ascesa di Nel Deiotti alla presidenza della Camera ha segnato in qualche modo la fine dell'isolamento storico del Partito Comunista e questa donna con il suo stile, la sua storia, ha in qualche modo dato una grandissima degnità alle istituzioni repubblicane, tanto lo dicevo da essere ancora oggi ricordata con grande nostalgia e grande affetto da chi ha avuto occasione nelle aule parlamentari di conoscerla al tempo e magari di raccontarne nelle croniche giornalistiche tutte le cose buone che fece come parlamentare successivamente come presidente della Camera dei Deputati.